Mi sembra. Si è ricollegato credo. Arrivo, arrivo, 130, let's go. Arrivo, arrivo. Mamma si arrabbiera molto. Ma chi se ne fai. Eh porco demonio, porco. Andiamo. Ci siamo. Eh perché hanno curito di fuori, è una puttana, guardalo. Posso? Seppo c'è le scarpe slegate. È uno scherzo. È un prank, bro, è un prank. È un proprio prank. Anche per scherzze. No, no. Bella Mirko, per la tua faccia, let's go. Chi se ne ha fatto anche il video di prima. No, ancora il video non ce l'ho fatto. Ancora il video non te l'ho fatto, ma te lo farò. Ricordi se ne avevamo un telefono in faccia latina, proprio così vicino. Oddio, let's go. Nonna, posso farti un attimo un'analisi? Un'analisi? Ciao nonna, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ascolta Radio Maria. Scappiamo. Guarda la sca... Allontanarsi dalla Madonna, eh. Radio Maria. Ascoltate Radio Maria. Ascolta 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 Radio Maria. No, no, un ombrello. Un ombrello non mi sa. Un ombrello. Nonina. Ma c'è un teppello. È un ombrello nonina. Ma c'è un teppello. Ma c'è un teppello. Ma c'è un teppello. Ma c'è un teppello. Ascolta Radio Maria. Ascolta Radio Maria. Accendi la luce che lo vogliamo. Grazie, nonina. Giusto. Di chi è? È di mia madre, è di mia madre, è di mio sorello. Tu accendi. Eh, Nico, te lo prendi te, quello. No, Ritmo è stoccato. Non si è spaccato niente, per fortuna. Capo, puoi mettere il moderatore. Ma, ma no, si proteggo. Grazie del forno. Ma sì, ma mi proteggo, nonna, sono intelligente. Sono intelligente. È tutta una tattica, è tutta una tattica. È tutta una tattica, nonna. Aspetta. Ti è dipendendo davanti? Davanti, ora sto dipendendo davanti. Andiamo. Andiamo, signori, andiamo. C'è vento, c'è vento, cazzo, c'è vento. 130, let's go. Let's go per questo 130. Eh, Bid. Eh? C'era la Fina che mi ha detto, chiudi piano il portone. Io l'ho chiuso piano e poi ho bussato qualcosa. Lol. 150, dai. 150, andiamo. 150, vai. Ti divertiamo. Ti diverto. Meno che non vuoi fare videochiamata su Whatsapp, però immagino di no. Videochiamata su Whatsapp. Epica. Domani ti ricoverano. Eh, punto. Mai mi ricoverano veramente. Perché fai il pirla con una telecamera? Bastante. Stai zitto, va. Stai zitto, che è meglio. Ma guarda. Per un po' di notorio. Guarda quel co***e, perché non mi riprendo davanti? Porco demonio. Fatti investire di proposito. Ma anche no. Ma anche no. Ma ti faccio la videochiamata. Eh, dovrebbe farmela lui a via da me. Scusami, signorino. È un'accendere. È una sigaretta. Eh no, però il vento no volo. Il diavolo. Un tipo, un giorno mi ha chiesto se volo una sigaretta. Ah sì? Sì. Io gli ho detto non fumo fra. Non fumo fra, gli hai detto? Non ti hai detto non fumo. Non fumo fra. Non fumo fra mi piaceva. No, però deve allungarsi. Non sei un tipo da fra, sei un tipo da zio. Eccole, grazie del pollo. Sono 170, morbo. Grazie, 170 flessioni. Maestro. Da tiro che sei giù. Porco diavolo. Porco diavolo, vorrei... Porco demonio. Porco demonio. Ma sei a Milano? Ma ti sembra Milano questa? Senti, hai visto che tu sono educata per la tua macchina. Perché quando è passata? Sì. Ha rallentato apposta per non farvi spiegare la colosso. Ehi, gente come questa deve non esistere più nel mondo. Non ci sono più queste persone nuove. Eccole, grazie del pollo. Ora 190 sono. Sì, sì. C'è una bombina che guarda... Perfetto. Facciamo fin da niente. Facciamoci un selfie, Matteo. Facciamoci un selfie, Matteo. Facciamo un selfie. Ecco, grande Matteo. Poi lo pubblico su Instagram, dappertutto. Ci divertiamo. Ciao, ciao. Porco diavolo quanto piove. Ciao, ciao. Hai suonato per complimentarsi con i vostri culi. Ah, misto. Gentile. Che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuole con il moto? Ma vai a fanculo. Che cazzo vuole? Che cazzo vuole? Ah, porco diavolo. Dio mio. Le orecchiavi non le prendo. Insulti. Adesso. Dio sanzo. Ecco. Si va avanti. così vado in camera comunque sono pritti ah santo cielo ti ricordi quando avevi una maschera pagliaccio mascherati ok ora la ghera di nuovo